Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi per supportarmi e per il resto che dire, spero che siete tutti bene e passiamo subito agli unboxing di oggi Primo unboxing di oggi, weekday, come vedete Come dicevo, secondo me le cose basic, i capi basic si possono comprare anche su weekday Se non apporto il prezzo abbastanza bene Eccoli qua, ho comprato un costume verde basic, eccolo qui Perché tra un po' andrò al mare E poi ho comprato un paio di shorts Eccoli qua Shorts di jeans Vedete Spero che mi vadano Adesso ve li provo subito Ve li faccio vedere Il taglio vivo qua Ve li faccio un attimo vedere Eccoli qua Shorts di weekday Adesso che c'è un caldo assurdo Tipo ad esempio oggi che ci sono circa 33 gradi È ottimo avere anche un paio di shorts Ed ora ragazzi passiamo al secondo unboxing di oggi Secondo unboxing di oggi, COS Rapporto qualità prezzo di COS secondo me è imbattibile Ho comprato un sacco di cose di COS ultimamente Se mi seguite Andate a vedere anche gli altri video Le linko qua Eccola qui Eccola qui T-shirt di COS Bianca Le faccio le t-shirt bianche d'estate E qui Vedete che c'è tutto questo testo? È un testo di Kai Zahia Jamal Praticamente Kai Zahia Jamal E questo testo lui È un poeta performativo Modello e attivista della trans visibilità Lui è di Londra Concentra sulle narrazioni della comunità nera Trans Cioè questa maglietta Presenta una poesia Che mette in scena esperienze Che possono essere difficili da esprimere Scritta esclusivamente per la Capsule COS Collection Vi leggo qualche riga Alcuni di noi abbiamo amici Che possiamo amare solo Chissi di adorare E' ok Alcuni di noi Abbiamo chiesto di altri Qui con gli amici E' ok Alcuni di noi Abbiamo creato Mace e formano Rumi Che creano Rumi Che per noi Alcuni dei marchi Sono ush Alcuni dei flecchi Sono ush Alcuni dei trutti Sono in Siamo in Troppo Liar Alcuni dei Bello Ho preso Una ml perché fanno le taglie così però direi che mi vada bene adesso me la provo anche subito sporcata bene, via bene eccola qui, maglia lì mi va diciamo perfetta ti fa un po' paura che a lavarla vabbè ecco qui anche la maglia ragazzi per l'unboxing di oggi è tutto se vi è piaciuto mettete un like, pollice in su iscrivetevi al canale e state collegati perché ci saranno tante novità e su questo canale tanti nuovi video ciao